Diego, tu sei uno dei ragazzi cresciuti al Philadelphia. Qual è il tuo primo ricordo del Fila e di quando ti hanno parlato per la prima volta del grande Torino? Ricordi sono tantissimi perché praticamente abbiamo fatto dall'inizio diciamo delle giovanili fino diciamo alla Serie A quindi entrare diciamo nel tempio del calcio come lo era il Philadelphia è stata un'emozione indimenticabile quindi c'è tutta una storia dietro lunghissima di tradizioni e allenarsi, essere stati così fortunati di potersi allenare il Philadelphia è stata un'emozione indelebile. Come c'è nel museo c'è proprio ancora le panche dove voi vi cambiavate dove c'erano dove Valentino Mazzola si cambiava dove c'erano questi grandi campioni ma tutti parlano di questo di questa cosa che si trasmetteva ma ce la puoi raccontare questo flusso questo? Ma come tutte le cose quando si diventa dei miti come lo erano loro i grandi giocatori del Torino la cosa viene trasmessa andando avanti quindi entrare lì e sapere che ti andavi ad allenare in un luogo veramente sacro beh è una cosa che non tutti hanno avuto la fortuna di provare. Senti ogni tanto si dice la maglia del Torino è una maglia pesante è una maglia che questo passato indossato e poi scende in campo con questo passato sulle spalle pesa ma è così effettivamente? Ma no non penso è logico che come ripeto c'è una tradizione che va avanti da tantissimi anni quindi quando vai a giocare al Torino ti trasmettono la grinta il non mollare mai di conseguenza un pochettino si sente però alla fine l'importante è far parte di una famiglia come allora il Torino. Grazie